Ragazzi è passato molto tempo dall'unica volta di un video serio mio uno di quei video in cui c'era un sprocchio enorme mio di parole per poter evitare di fare dei tagli come si come ha insegnato Sinergo nei suoi video Sinergo di cose dell'altro cinema o dei due equilibri sul server un canale che ogni tanto seguo da delle buoni insegnamenti anche per quanto riguarda appunto il videomaking io non sono un videomaker lo sapete benissimo questa grossa cacchierata come introduzione per sciogliermi un attimo dopo tanto tempo che non parlo più durante una videocamera ah per inciso questa è una videocamera sui generis perché è il mio iphone 10 tenuto dal osmo mobile 3 è una specie di setup di prova che sto mettendo in atto per poter vedere se funziona tutto come deve il setup perfetto non l'ho ancora trovato si l'avete visto il microfono lavalier, l'osmo pocket e l'altro tripede della manfrotto ma questa è una cosa sperimentale vediamo come va infatti presa diretta speriamo che vada bene e che Dio ce la mandi buona quindi stasera cosa guardiamo? guardiamo un kit della lego eccolo che lo sono un po' curato è il casco di Ironman come vedete la bella scatola tutta nera con il faccione di Ironman qua davanti dietro la scatola c'è sempre Ironman sul suo piedistallo varie fotografie del prodotto e un frame preso dal film stesso lateralmente ancora il faccione di Ironman il lego il logo Avengers qua sotto ma forse se mi vicino fosse meglio vedete lego Avengers avete visto è una cosa un po' particolare ma vado l'antinetto perché non sono abituato ad avere la videocamera decentrata dall'altra parte sull'altra spalletta abbiamo la scritta ancora Ironman di Marvel Studios lego da questa parte Marvel Studios e Avengers la parte sopra ci sono tutte le varie indicazioni per l'uso il giochino non va dato a un bambino di tre anni quindi a me non andrebbe assolutamente bene dall'altra parte c'è sempre il logo Ironman Marvel Studios questo non so quella sia non lo riesco a vedere anch'io e lego questa è la scatola che adesso andrò ad aprire insieme a voi a costruire e penso che sia bella da costruire e da esplorre da qualche parte anche se in casa mia o mai di posti da poter esplorre non ci sono piccolo taglio ragazzi ho studiato tanto il setup di questa scena ma l'unica che ho trovato decente è questa quindi io di fianco sul divano la scatola di Ironman qua di fianco il mio mitico Victorinox quello che porto sempre in tasca perché anche questo chiaramente è un'apertura di fortuna un unboxing di fortuna un video di fortuna e quindi tutto all'insegna di come viene viene ragazzi la scatola dice guarda è questa l'apriamo insieme qui c'è l'apertura bisogna tagliare il sigillo all'interno cercando di non fare un guaio perché a me piace tenere anche le scatole vediamo se riusciamo a tirare bene se non taglio male e soprattutto non mi taglio una gamba forse riusciamo a fare l'apertura ecco l'apertura è venuta alla perfezione il mio Victorinox funziona sempre da grande lo chiudo e come sempre attenzione ragazzi come vi dico alle cose taglienti quando aprite i pacchi quindi adesso apriamo insieme la scatola sono curioso come voi è la prima volta che lo vedo anzi guardi c'è un'altra cosa da aprire sempre riapriamo il Victorinox perché da tutte le parti è sigillato e incollato sentite intanto il contenuto della scatola che sta montonando che vuole venire fuori farsi vedere e essere montato per essere poi esposto vediamo un pochino se non smacchiamo la scatola dicevo mi dispiacerebbe perché anche questa mi piace tenerla cominci meglio vediamo se sono riuscito a avere ragione di questo scatolone apertura della scatola ora finalmente ci siamo quanti bei pezzi qui vi faccio vedere in anteprima cosa c'è dentro lo vedo neanch'io abbiamo i bustoni come sempre c'è la busta numero 1 tutti i pezzi rossi vedete come ha il romano rosso la busta numero 2 chiaramente la busta numero 3 stranamente sono venute fuori tutte in ordine poi la busta numero 4 giusto appunto il manuale di istruzioni ragazzi guardate che bello manuale di istruzioni iron man marvel studios dietro completamente nero la costina che riprende il disegno anteriore sono la bellezza di 126 pagine di montaggio se riesco a farvelo vedere tanti bel pezzettini intanto lo sto guardando anch'io vedete la mia faccia deve essere abbastanza semplice ma interessante da costruire sì 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 poi non è finito qua e prima di metto le istruzioni perché in fondo le immancabili stickers mi piacerebbe di più se la lego facesse i pezzi si è rigraffati e non con gli sticker perché gli sticker si possono anche staccare anche se sono comprovati di ottima qualità e quindi problemi non ci dovrebbero essere questi fra l'altro secondo mio avviso sono gli occhi vedete infatti dalla scatola riprendonati in mano alla scatola vedete questo è l'occhio che serve poi questo o uno l'altro verso dipende procediamo a montaggio e poi vi presenterò il prodotto finito come viene questo bellissimo casco di iron man da esposizione ecco ragazzi la prima parte finita del casco cioè quella corrispondente al sacchetto numero 1 avete visto che erano tutti i sacchetti numerati da 1 a 4 questo è il primo da adesso non si vede ancora nulla poi ci sono dei pezzi strani di colori che non c'entrano niente con iron man che sono grigio arancione azzurro poi ci sono delle specie di chiavette qua non lo so chiaramente sono ancora tutto in essere di venire quindi non posso dirvi niente di più per adesso la costruzione è abbastanza semplice e agile sono dei pezzi abbastanza strani delle scalette che non capisco tipo questa ma insomma tutto verrà più chiaro secondo me andando avanti con la costruzione sono questi pezzi sporgenti non ho ancora capito quindi adesso mettiamo via questo ovvero uniamo a questo il secondo sacchetto ragazzi ecco finito il secondo sacchetto la seconda busta e la testa diciamo così comincia a prendere forma ci sono sempre queste parti ho capito che queste parti vanno attaccate le parti frontali come questa vedete si stacca ci sono questi pezzi particolari a cui va collegato questo laterale è stata la perfezione la stessa cosa anche sotto e sopra diventa tutto molto semplice da costruire molto veloce è molto divertente anche perché gli incastri sono fatti per bene bisogna fare attenzione perché alcuni pezzi possono essere posizionati in tanti modi quindi questo poi era più giù e ho dovuto spostare più sopra questo è l'orecchio di iron man e già questo si vede questa è la seconda parte del montaggio cioè se la seconda busta diciamo sempre la seconda parte è una parte unica di montaggio la seconda busta finita con la seconda parte chiaramente colleghiamo la terza busta la penultima busta ecco ragazzi come si presenta dopo la terza busta il nostro casco di armi pensavo fosse un po più grosso ma pensavo fosse all'altezza del mio faccione ma è la metà comunque lo stesso adesso qui mancava l'ultima parte nella quarta busta qui avete già visto che c'è scritto lego avengers iron man il supporto dentro c'è un uno spinotto di legotecnic da tenere tutto fermo sotto e fissate in questo modo davanti ci sono queste specie di bargini neri non so cosa servono ma chiaramente hanno tutti collegati a dei pezzi di lego per poter fare la faccia di iron man stesso dietro si sono uniti questi due questi pezzi per poter fare il capuccione la parte tonda e questo è quanto lateralmente l'orecchia ovvero il casco diciamo la parte tonda del casco di iron man la parte superiore e questo è quanto ripeto ma anche soltanto la parte interiore cioè la macchia e sto guardando da parte ci dovrebbe andare l'altra come sempre la faccia chiaramente che sarà contenuta nel quarto e l'ultimo sacchetto finalmente eccoci giunti alla fine del lavoro la maschera di iron man sul suo piedistallo completamente finita vedete questa deve essere la mark 1 o la mark 2 cioè la prima versione della seconda versione di iron man quello classico originale quello appunto degli Avengers quindi la maschera anteriormente è fatta di mantolcini dorati rosso sul lato come l'originale dietro l'abbiamo già visto la parte della nuca con gli inserti dorati qui sotto e si presenta abbastanza bene l'unica cosa difficoltosa non so se li ho montati bene queste ultime parti che non so se sono posizionate bene comunque fa la sua bella figura comunque ragazzi il lavoro finito è notevole tempo di costruzione un paio di ore una cosa abbastanza easy quindi penso che sia alla portata di tutti quelli che hanno un pochino di manualità e di costruzione di set di ego detto questo ragazzi non mi resta altro che salutarvi augurandovi tutte le cose più belle e a dio piacendo ci vediamo al prossimo video ciao a tutti